Avete promesso che questa diventerà la città del benessere, ma forse del benessere dei delinquenti. Con questa battuta, Gianni Berrino, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Aleanza Nazionale, rilancia l'allarme sicurezza a Sanremo, una problematica tornata all'evidenza dopo la recente denuncia di un sindacato sull'assenza di pattuglie della polizia durante l'orario notturno. La situazione in città è diventata preoccupante, ha detto Berrino. A fronte di una serie di comportamenti di piccola criminalità c'è stata una forte diminuzione del presidio delle forze dell'ordine. Di notte la città è terra delle bande criminali che continuano a girare indisturbate. Preghiamo il sindaco di andare dal prefetto e dal questore per chiedere, senza remore o titumanze, un maggior numero di uomini e mezzi. Una tematica che ha trovato completamente d'accordo anche il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Il Grande. È inaccettabile che Sanremo, nei mesi di luglio-agosto, non abbia una volante in orario notturno, ha detto. Ricordiamoci che la nostra città nel periodo estivo passa da 55 a 80 mila abitanti. Mentre altre realtà hanno un rafforzamento, noi invece ci troviamo con una problematica di questo tipo. La risposta del primo cittadino non si è fatta attendere. Questo è un tema da me molto sentito, è intervenuto il sindaco Alberto Biancheri, sapendo però che le competenze di un sindaco arrivano solo fino ad un certo punto. Noi però andremo avanti, battendo i pugni sul tavolo per chiedere quello che ci spetta. Intanto il progetto per le telecamere è in prefettura per la valutazione finale. Come confermato dal vice sindaco Leandro Faraldi, le telecamere saranno aumentate di parecchie unità, mentre quelle esistenti saranno adeguate come qualità.